Ciao a tutti ragazzi, noi siamo qui davanti al GlassDV-Rai2 quest'oggi ci sono state delle complicanze, le chiamiamo complicanze artistiche ragazzi siamo noi siamo noi quelli che ancora sognano siamo noi quelli che ancora giocano siamo noi quelli che non si adeguano siamo noi, siamo tutto tanto noi so che non è facile ritrovarsi qua che non comprendiamo il senso in questa grande realtà e se vuoi capirai come mai andiamo sempre in alto, sempre in alto siamo noi ragazzi siamo noi quest'oggi però c'è una ragazza che è venuta ha fatto la nottata, sveglia e non ha cantato per cui canti adesso ok, vai at first I was afraid, I was petrified keep thinking I can never live without you by my side but then I spent so many nights thinking how you did me wrong and I get strong and I learned how to get along and know your dreams from outer space I just want to find you here without a look upon your face I should've changed just to be loved I should've changed, leave your key if I had no for just one second you'd be back to bother me go and now go walk out the door just turn around now cause you're not welcome anymore were you the one who tried to hurt me with the lie did you think I can crumble? did you think I lay down and die? oh no, not I, yeah I will survive oh, as long as I know how to love I know I stay alive I got all my life to be I got all my love to be and I'll survive I will survive yeah, 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 yeah ragazzi, quanti talenti? c'è qualcuno che deve fare qualcos'altro? lui sale da, lui sale da, lui sale da quindi serve una data, che ne so quando è andata in onda prima la prima stagione di Canzonissima? è presentatore o presentatrice? sonissima, la prima 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 ma siamo nel 1956 andiamo, i mostri sono chiamati qua allora, scusatemi, vi dimostro